Loredana Leciso si trova nel mirino dell'attenzione mediatica per già di un servizio che striscia la notizia. Ha realizzato un pezzo su Loredana Leciso deridendo la ex compagna di Albano Carrisi. Ecco cos'è successo in studio. Albano Carrisi e le sue donne. In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere meglio Albano Carrisi anche per via del gossip che ha sempre raccontato la sua vita privata, dal matrimonio con Romina Power alla relazione con Loredana Leciso. Il cantante di Cellino San Marco ha sempre cercato di trovare il modo per unire quella famiglia allargata che ha caratterizzato la sua vita, grazie anche all'amore per i figli. Ma le sue due donne non sono state sempre state d'accordo su questa cosa tanto che ancora oggi Loredana Leciso e Romina Power non hanno alcun rapporto non riuscendo a stare nemmeno nella stessa stanza anche quando la pugliese segue Albano nelle sue performance in giro per l'Italia. Il tutto però non finisce qui dato dato il gossip ha nuovamente travolto la famiglia di Albano Carrisi, in particolar modo Loredana Leciso. Dunque, cos'è successo di così clamoroso per la nuova regina di Cellino San Marco? Striscia la notizia, Derrida e Loredana Leciso. In queste settimane abbiamo avuto modo di vedere Striscia la notizia continuate con la sua normale messa in onda della trasmissione, essendo giudicata questa un servizio di informazione importante per la nazione italiana investita dall'emergenza coronavirus. Nonostante la programmazione dei vari servizi del Tg satirico, durante Striscia la notizia non mancano i servizi satirici sui personaggi dello spettacolo, di certo non mancano. Non a caso ecco che a tenere banco nel mondo delle news, troviamo il servizio che è stato realizzato su Loredana Leciso, su cui viene derisa dal Tg satirico. Ecco di cosa si tratta. Loredana Leciso figurace in tv. Striscia la notizia è un programma famoso per non essere di certo gentili con tutti coloro che sono protagonisti dei loro servizi. Allo stesso modo è successo anche per Loredana Leciso, la quale è stata protagonista di un servizio discutibile. Striscia la notizia ha raccolto una lunga serie di filmati che mostrano la donna pugliese impegnata in alcune collaborazioni televisive insieme alla gemella e non solo. Oggetto del servizio sono stati anche i litigi che la donna ha avuto in televisione con Albano, come ad esempio quello che si è verificato all'Isola dei Famosi nel 2005. Come avrà reagito Loredana Leciso appena visto il servizio? Loredana Leciso appena visto il servizio? Loredana Leciso appena visto il servizio?